Un augurio di cuore e di buon Natale alle ragazze e ai ragazzi dei nostri licei musicali che hanno aderito al progetto della Web TV. Peccato di non poter esserci da vicino quest'anno ad ascoltare, ad abbracciarci, a guardarci negli occhi e farci gli auguri ma questo tempo verrà presto. Per ora un grande abbraccio qui dalla città metropolitana. Buon Natale! Un augurio di cuore e di buon Natale alle ragazze e ai ragazzi dei nostri licei musicali Un augurio di cuore e di buon Natale alle ragazze e ai ragazzi dei nostri licei musicali Un augurio di cuore e di buon Natale alle ragazze e ai ragazzi dei nostri licei musicali Un augurio di cuore e di buon Natale alle ragazze e ai ragazzi dei nostri licei musicali Un augurio di cuore e di buon Natale alle ragazze e ai ragazzi dei nostri licei musicali Un augurio di cuore e di buon Natale alle ragazze e ai ragazzi dei nostri licei musicali Grazie a tutti. Grazie a tutti.